Ok, quindi facciamo una bella monolotaglia per concludere il tutto Così Prendiamo una monolotaglia Sì La mettiamo qua Mentre l'altra la mettiamo Quindi facciamo tutto così All'incirca così Quindi la mettiamo qua Oppure la potrei mettere qua giù No, mettiamola qua Ok Allora serve acqua Quindi facciamo delle case Per raggiungere la zona Così e così Ma qui ci vorrei mettere Un piccolo parco Possibilmente Sì Ok Dei negozi Sì Dobbiamo collegarlo con l'acqua E l'acqua Tiriamo giù questa Facciamo prima E ok Allora questo è collegato Ora dobbiamo Prendere questo E potenziare Watch of my world Quindi tutto è così Continuo ad andare dritto Non fermare Ok Ora Qui noi Curviamo Qui c'è il ponte Qui è chiuso Quindi prendiamo Questa Così Ok Ci siamo quasi E ho finito i soldi Prendiamo questi Quindi mettiamo qua Cibo cibo Allora Settori Ok Case Qui ci siamo Qui manca l'elettricità Come mai Quanto stiamo di elettricità Eeeh 352 333 Effettivamente Effettivamente Quindi manca l'acqua Anche se alla fine Ok Così dovremmo aver gestato La situazione Manca l'acqua Ovviamente Allora Questo Vediamo questo Questo c'è Questo c'è Questo dovrebbe aiutarmi In teoria Allora Dove c'eravamo Lasciati Di qua Continuiamo No E' questo Quindi così 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 Di qua Io non ho più soldi Va bene Tagliamo Per di qua Negozi Potrei fare qualche negozio In più Sì Qui E qui Qui facciamo fabbriche E ci siamo Torniamo a 2000 Allora Questo è potenziato Qui noi dobbiamo tagliare Per su Sì Quindi per così Ok E qui Noi adesso Ci dobbiamo collegare E Vedo un attimo Se questo Me lo può fare Ok Quindi per così Potremmo fare Uno Che va qua Anni circa E quest'altro Che parte da qua E si collega Qua Quindi in teoria Se lo mettessi qui Non sarebbe male Quindi facciamo così Facciamo uno Che va per di qua E un altro Che viene da di qua Perché se è così Storto È un po' Brutto Devo dire Ok Quindi questo va dritto Per così E questo invece Va per così O forse Se voglio fargli In contrario No No Va bene Così Eh Volevo spostarlo Questo Però Non me lo metto Va bene Dovremmo Esserci Ci servono I piccoli Negozi Ok Qualche casa Mi dice Si potrei Metterne qui Qualche casa Ora La parte più difficile Ops Qui mi sono scordato Di mettere questo Allora Questi qui Li buttiamo giù Subito Quindi Facciamo Uno come questo Che va qui E lo collega Per Allora Anche qui Facciamo la strada Perfetto Ok No Ah tu E tutti i colleghi Diciamo Così E così Mentre tutti i colleghi Per Per così Ok Questa è venuta meglio Come sempre L'elettricità Prendiamo questa 20 Ok Ok Ne produciamo 325 351 Mi serve un po' più di elettricità Allora La parte più complicata La parte più complicata La parte più complicata Ok Ok Dovremmo Dovremmo averla collegata L'elettricità E' sempre un problema 312 324 Però Se aspetto Fino a 12 Mi guadagno di più Ci serve acqua Eh si Questa è tagliata fuori Perfetto Aspettiamo di arrivare a 12 Mi servono case Ok Questo dovrebbe soddisfare un po' le esigenze Ok Siamo a 13 Mettiamo sto benedetto Produttore di elettricità Ok Siamo a 10.517 L'abbiamo completato il tutto Non ho notaglia fatta Vediamo se riusciamo a vederla Uno in azione Perché non mi dà linee di trasporto Ok Ora dovrebbe esserci Sì Eccola qua Dunque Vediamo uno sguardo Molto bene Non male Devo dire Non male Facciamo un giro sui binari Modalità Funambolo Ecco Nessuno Nessuno Per adesso Nessuno Non so se aumenteranno adesso Con il tempo Adesso ne abbiamo Nessuno Nessun passaggiero Però Non è venuta male Comunque Soddisfatto Della creazione Bello Bello vivere qui Ok Abbiamo completato Il nostro obiettivo Possiamo dire Sì Che era di 10.000 abitanti È venuta su una bella cittadina Devo dire Non male Mi piace Ultimo sguardo Facciamoci un giro Qui c'è la nostra biblioteca Monorotaio I nostri allevamenti Ok E qui finisce Questa Mini Campagnetta Possiamo dire Su city skyline Non male